Io non credo che sia tutta Gomorra, che sia tutto Robin Hood, ci sono i tanti giorni, voi immaginate l'impegno dei tantissimi volontari, di quelli che stanno a disposizione dei vecchi, dei malati, di quelli che danno il loro tempo, di quelli che si impegnano a portare aiuto anche culturale, sociale, ma anche materiale. È una folla immensa. Forse se si facesse un film anche sull'impegno dei giovani che positivamente contribuiscono alla crescita della nostra città, non sarebbe male.